Buongiorno, sono Natalia Cristofaro De Vincenti, ballerina e coreografa, anche rappresentante legale della Commissione, Anibaltroilo in Salerno. Abbiamo l'onore a Salerno accogliere questo progetto di festeggiare la nascita di Anibaltroilo che sta complendo l'11 di luglio 100 anni. Questo è un progetto che è partito in Argentina per fare la mia città, io sono di Rosario e poi per fortuna trovandomi qui a Salerno e anche ringraziando questa possibilità che mi ha dato Salerno, il Comune di Salerno, di poter portare avanti questo progetto e fare l'omaggio qui a Salerno. Quindi questo evento si terrà nella Chiesa Santa Sofia, nel complesso, nel terzo piano e sarà un evento che inizia alle 17 ore con una clinica di bandognon per ballerini musicisti che include la descrizione, la funzionalità e la meccanica del bandognon, gli artisti della decada del 40 concentrandosi nello stilo di Anibaltroilo, diciamo la porta di Anibaltroilo al tango, gli stili della decada del 40, l'aspetto ritmico, confronto tra i bandognonisti e direttori d'orchestra, fraseggio, musicalità, principali compositori ed esecuzioni, caratteristiche, influenze e applicazioni al ballo di tango sociale. La clinica sarà teorico-prattica con proiezioni in modo che questa tecnica si terrà col maestro, anche ballerino, che è di Rosario per la vita a Roma, Mariano Navone. Poi continua alle ore 19 con un audiovisivo sulla vita di Anibaltroilo e alle 20 inizia la serata per ballare, dove suonare un'orchestra dal vivo che si chiama Caccivace Tango, che sono anche argentini. E poi verranno due DJ a mettere musica, una di queste ragazze è una ragazza di Napoli, che si chiama La Nena Radice, e l'altra ragazza è di Roma, che si chiama Elisabetta Guaglianone. E poi balleremo fino alle 12, ovviamente, si offrirà un buffet per gli invitati. E soprattutto è importante perché è un momento di condividere un po' tutti insieme chi siamo queste persone della campagna, che balliamo il tango, che ci piace questo. E anche voleva mettere in importanza che è un'attività che ha l'appoggio anche di tutte le associazioni di tango di campagna. Sono 17 associazioni che stanno appoggiando questa attività. È anche patrosinato per il comune di Rosario, che è la mia città, per l'emissora di radio La Dosport 4. Una serata dedicata al tango per ricordare una personalità. Una bella iniziativa che coinvolge una ventina di associazioni di tango, amatori di tango, non soltanto della nostra città, ma anche della nostra provincia. Abbiamo come comune colto quest'occasione, quest'opportunità che ci veniva proposta dal rappresentante legale di questo centenario, di questo organismo che è stato fatto, per ricordare Annibaltroilo nel mondo, che è una delle figure dei compositori musicali più importanti del tango, e per gli amanti del tango è figura nota. Quindi è un'altra occasione che noi ospitiamo a Salerno, domenica 11 maggio, all'interno del complesso di Santa Sofia, per attirare appassionati di tango, soprattutto per fare iniziative e per arricchire il nostro programma di eventi, che anche a maggio sarà sicuramente cospicuo. Tutte iniziative che ci accompagnano alla stagione estiva? Sicuramente. L'obiettivo dell'amministrazione De Luca, noi lo abbiamo detto da tempo, è quello di tenere senza soluzione di continuità eventi nella nostra città per tanto tempo e per tutti i weekend. Ci stiamo riuscendo nonostante la crisi, stiamo avendo dei risultati anche significativi in termini di ricaduta turistica. Maggio è il mese dei monumenti, è il mese dei beni culturali, è il mese anche di Salerno porte aperte che terremo alla fine di maggio, e ovviamente questo passaggio della primavera ci apre ad un'estate che sarà altrettanto ricca di eventi, di iniziative. L'Arena del Mare, come sapete, quest'anno sarà rilanciata in maniera particolarmente feconda, il premio Charlotte che viene a Salerno, tutta una serie di iniziative che sicuramente fanno di Salerno sempre più la città degli eventi, la città del turismo e la città degli spettacoli. Un'iniziativa dedicata agli appassionati di tango ma anche a chi non lo conosce? Certo, è un'iniziativa per la città, per tutte le persone di questa città di Salerno, per fare un'integrazione anche di diversi artisti, perché sono anche, non solo di ballo, sino ci sta la musica dal vivo, anche un artista che dipinge nel momento dove stanno i musicisti, che si farà una performance, quindi è un momento per fare un po' uno scambio di due culture che sono così lontane, però che alla fine hanno tanto in comune. Quindi facendo omaggio alle persone, agli italiani che sono partiti per Argentina, come anche la mia famiglia, e adesso facendo un po' il contrario perché hanno contribuito a questa formazione di tango, diciamo. Sono davvero tanti i praticanti del ballo amatoriale, il tango, insomma, spopola anche se sembra poco conosciuto, ma non è così. No, diciamo che il tango adesso proprio è sparso per tutto il mondo e in Italia è un punto molto forte del tango, non solo amatori, sino anche professionisti.